Ciao e ben ritrovati a questa terza puntata dedicata alla pratica del TC con il progetto sono in movimento oggi ci dedicheremo alla camminata del tai chi in cinese si chiama tai chi pu la camminata del TC è di fatto una camminata eseguita in modo molto lento ed è utile per prendere totale consapevolezza del proprio corpo imparare a gestire l'equilibrio e quindi a utilizzare anche tutti i muscoli stabilizzatori che generalmente quest'ultimi non vengono ben utilizzati inoltre la camminata soprattutto se eseguita per esempio in un parco immerse nella natura diventa molto utile per entrare in uno stato meditativo vediamo insieme la camminata parte dalla posizione retta le mani le puoi incrociare dietro la schiena e inizi a sollevare una gamba inspirando dal naso e in modo controllato inizia ad appoggiare il piede e a distribuire in modo uniforme il peso ogni volta che stacchi il piede dal suolo inspira assicurati di trovare il giusto appoggio e poi piano piano espiri dalla bocca